In effetti se ci pensate sembra inimmaginabile mettere insieme un'esperienza al Super Bowl e vedere l'Alftime Show, quest'anno ci sarà Kendrick Lamar e l'autobus. In realtà con loro abbiamo detto ok, facciamo qualcosa di sensazionale. L'evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti, che batte regolarmente record di audience e di incassi. L'appuntamento è per il 9 febbraio a New Orleans. Tra gli spettatori del Super Bowl 2025 ci sarà anche il vincitore del concorso di Autolinea Toscane. Grazie alla collaborazione tra i gestori del trasporto pubblico e Visa, gli utenti che faranno TAP all'interno del bus con una carta dell'Istituto di Credito, tra il 20 e il 30 settembre prossimi, oltre alla corsa gratuita, potranno partecipare ad un concorso che mette in palio due biglietti per la finale del campionato di football americano. Se si ha più di 21 anni e si è residente in Italia, si va sulla pagina at-bus-superbowl. Lì ci sono tutte le istruzioni, c'è anche il regolamento che invito a leggere. Bisogna raccontare, rispondere alla domanda che chiede agli utenti di raccontare quale sarebbe il viaggio dei tuoi sogni da fare in autobus in Toscana e con chi lo faresti. Autolinea è l'unica azienda di trasporto pubblico al mondo a poter offrire questa possibilità. Nell'ambito di un piano di iniziative per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, che parola dell'assessore Baccelli, hanno superato l'esame dei primi giorni di scuola. Tendenzialmente le cose stanno andando bene, ad oggi sono emerse poche criticità. Sarà un concorso e non un esame a mettere in palio i biglietti per il Superbowl.